Cava Expo 2014, 23, 24, 25 maggio, area feristico mercatale coperta di Cava di Tirreni. Abbiamo qui con noi uno degli organizzatori, Emiliano De Masi, che ci illustrerà sull'iniziativa. Salve, io sono Emiliano De Masi, sono l'Art Director di Spazio 293, uno studio di design e comunicazione visiva. Vi aspettiamo il 23, 24 e 25 maggio al Cava Expo, che è una manifestazione che si basa su concetti sociali e territoriali, nella valorizzazione di quello che sono i professionisti e le aziende e le istituzioni, ed unirle in un unico progetto e sotto un unico obiettivo. Anche per questo va a giustificare l'utilizzo di un AX, che è un'intersezione, un segno grafico, ed è la matrice del progetto. E quindi ci saranno di conseguenza anche quattro macro aree, che sono i temi dell'Expo che quest'anno l'evento sta abbracciando, quali salute e farma, wedding, sport, bio e food. E questo è tutto, grazie. Quindi appuntamento all'ultimo fine settimana di maggio per questa...